Ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro, Igor il Tanke e questo nuovissimo video che faccio questa volta sui minigames di Minecraft, per la precisione sulle build battles. È la prima volta che porto questo tipo di video sul mio canale, spero vi piaccia, come spero vi piacciono le mie cuffie, le mie nuove cuffie che utilizzerò solo per i gaming o per quello che mi darmo. Non ho questo vincolo per le mie cuffiozze. Comunque sta per iniziare questa prima build battle, spero vi divertiate, ve lo giuro perché io mi diverto quando ci gioco, quindi buona visione. Vogliono che faccia un libro, iniziamo subito prendendo della terracotta, utilizziamo della terracotta e faremo verde il nostro libro. Quindi direi di farlo così, oppure lo facciamo di uno, è sempre meglio farlo dispari. Questa sarà il dietro, la parte diciamo rilegata, forse mi piace di più di due, so che dispari meglio ma mi piace di più di due, mi dà più l'idea di spessore del libro, perché se no sembra una schifezzuola. Ok, poi il libro sarà così, dopodiché qua ci saranno le pagine, a questo punto qua, quindi facciamo il libro che avanza e che scende qui. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Abbiamo fatto la prima parte, sto pensando con cosa fare la carta, perché mi sembra una cosa importante, però continuiamo a fare il resto del libro. E poi dopo ci penseremo, perché alla fine pensavo di fare anche una mano, come se lo stesse prendendo o una scaffalatura, devo rifletterci, devo anche capire in base al tempo che ho. Perché sapete che il tempo è sempre una cosa che conta. Dopodiché, prendiamo qualcosa di bianco. Di bianco, ah, il quarzo. Il quarzo mi sembra perfetto, blocco di quarto. E per far capire che questa è la carta del libro. Perfetto, perfetto, perfetto. Bene, bene, bene. Forse devo farlo più lungo? No, dà l'idea di essere un libro, dà l'idea di essere un libro, è la cosa che mi piace. Ora, c'è qualcosa che però non mi ispira, voglio farlo più alto qui e vedere... No, no, così sembra un tostapane. Quindi lasciamolo così e facciamoci attorno, con il legno, questo qua, di quercia. Facciamo come se fosse uno scaffale. Che dite? Può essere una bella idea? Lo facciamo più lungo di uno, lo facciamo bello alto. Più alto del libro, perché deve contenerlo, diciamo. E poi lo facciamo verso dietro. Non so se riuscirò a fare ciò, però lo spero, perché mi piace come idea. E le idee che mi piacciono vanno realizzate. Come l'idea di riprendere a fare video su Minecraft. E di riprendere a fare video su YouTube in generale. Mi sa che la mano non riesco a farla. Però se viene fuori questa cosa qua, mi dà l'idea che sarà carino. Per 60 secondi non ce la farò mai. Mai nella vita. Mai. Devo fare più veloce, devo fare più veloce, devo fare più veloce, più veloce. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio, sì. Se distruggo i blocchi che già ci sono, ci sfido che non ce la farò. Che rabbia, che rabbia, che rabbia, che rabbia, che rabbia. Devo fare più veloce, devo fare più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. 45 secondi non ce la faccio mai nella vita. Mai, 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 mai. Mannaggia. Sto facendo casino. Mai. Oh. Questo però, questa parte qua, è finita in pochissimo tempo. Quindi, non ce la farò mai. Che brutta bestia la fretta, ragazzi. Che brutta bestia. Che brutta bestia. Certo, se mi perdo facendo queste cose qui. 15 secondi. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai che ce la facciamo. 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 Dai, dai. No. 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 Di due. Porco Giuda. No. Cos'è sta roba? Fa schifo. Che rabbia. Vabbè, dai. Ci si. C'eravamo. Di tanto così. Di tanto così. No. Ah. Vabbè, va bene, dai. Andiamo avanti, dai. Abbiamo la possibilità, perché abbiamo fatto anche la scaffalatura. Non ho cambiato il terreno, mi sono dimenticato. Oh, eccolo qua. Che bello, che bello, che bello. Mi spiace per quella parte lì, mannaggia. Però dà l'idea di essere un libro. Dà l'idea di essere un libro, forse. Poi di qua l'ho fatto più lontano, ok? Boh. Vabbè, è la prima build battle. Mettete un capolavoro. E deve essere un capolavoro, dai, ragazzi. Per favore, per favore. Ok. Oh, carino questo. Sì, carino. Minimale, però carino. Sufficiente. Vi dirò, ragazzi. Il mio obiettivo di oggi non è arrivare primo, perché secondo me non arrivo primo come prima build battle che vi porto. Perché sono un po' sfigato e poi non era da primo posto. L'obiettivo è arrivare, non so in quanti siamo per ora, siamo in tre, forse. Questo è il quarto. Carino, sufficiente. Se siamo più di cinque... No, l'obiettivo sarebbe arrivare nei primi tre. Che dite? Può essere fattibile? Secondo me no. Non arrivo tra i primi tre. Però è storto. No, non mi piace. Non è un granché. Non me ne ero accorto che di qua è più lungo, di qua è più corto. Non ha senso. Non troverai mai un libro con una parte più lunga e una parte più corta. Chi ha vinto? Ah, ha vinto lui. Sono arrivato terzo. Non sono arrivato nei primi tre. Era un quattro. Però sono comunque arrivato nei primi tre. Vabbè, questo meritava, è vero. Era la parte più giusta. Mettiamo GG anche noi. GG. E, ragazzi, il video si conclude qua. Spero che vi sia piaciuto questo mini flash nei minigames, nelle build battles. È piaciuto a me e ve lo riporterò, promesso. Spero che comunque questo video vada bene, ma ve lo riporterò comunque con qualcosa di più emozionante. Perché è libero e emozionante, ma non abbastanza. Perché non sono riuscito a finirlo. In ogni caso vi ringrazio tanto per la visualizzazione. Vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto. E a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Una buona continuazione a tutti e ciao ciao belli. Ciao ciao. Ciao ciao.